Iniziano le trattative di calciomercato ed il Cagliari del presidente Giulini si mette al centro delle trattative con in testa il direttore sportivo Capo Zucca pronto a mettere a segno i colpi necessari per rinforzare l'organico che dovrà affrontare il massimo campionato di Serie A. Le grandi manovre sono principalmente indirizzante al settore di centrocampo, il più complesso da allestire che quasi certamente sarà profondamente diverso da quello della passata stagione. La società Rosso Blu segue attentamente soprattutto Mirko Valdifiori e Artur Ionita ma anche l'esterno dell'Atalanta Marco D'Alessandro. Con Munari in uscita nonostante il suo agente abbia smentito la partenza dall'isola, Teio incerto per le questioni legate alla Juventus, De Sena ancora le prese con la riabilitazione dopo la doppia frattura di Tibia e Perone e De Iola ancora da valutare in prospettiva Serie A con la coppia di registi di Gennaro Fossati. In attesa di notizie il reparto è quello più in fermento. Stefano Capozucca, grande conoscitore delle operazioni di mercato, si è trasferito a Milano per garantire a Mister Rastelli una rosa ritoccata e competitiva per la massima serie. Il primo nome sul tacquino del DS è Artur Ionita, sul quale ha messo gli occhi anche il Napoli. Un concorrente non di poco conto, quello partenopeo, dal quale il Cagliari cercherà di prelevare l'ex regista dell'Empoli, Mirko Valdifiori, che potrebbe lasciare la società azzurra perché utilizzato con il contagocce. Il Cagliari vorrebbe entrare in possesso del cartellino, valutato intorno agli 8 milioni di euro, considerando la sua valorizzazione grazie all'ingresso nel giro della nazionale. Altro scoglio dell'operazione potrebbe essere l'alto ingaggio, visto che al Napoli lo stipendio del giocatore si attesta intorno ai 900 milioni di euro, cifra decisamente alta per il sodalizio del presidente Giulini. Proprio per questo la società rosso-blu si muove anche verso altre piste, una fra tutte quelle che porta Marco D'Alessandro, che potrebbe lasciare Bergamo per portarsi nell'isola con una operazione da circa 4 milioni di euro. Suggestiva ma complicata la voce che gira in queste ultime ore circa l'interessamento che porta al centrocampista cileno Pizzarro. Il regista sudamericano si è pentito della scelta di lasciare la Fiorentina un anno fa e vorrebbe tornare in Italia. Il Cagliari ci sta pensando, potrebbe essere interessata ad un giocatore di sicura affidabilità visti i trascorsi del giocatore. I dubbi e le incognite non mancano inerenti all'età avanzata, considerando che Pizzarro nella prossima stagione compirà 37 anni. In più, il giocatore è un extracomunitario e per tesserarlo la società sarda dovrebbe privarsi di uno tra Gio, Pedro, Farias o Ibarbo. Il colombiano, ancora di proprietà del Cagliari, dovrebbe quasi certamente partire destinazione Grecia per vestire nella prossima stagione la maglia del Panathinaikos. Sul fronte del reparto d'attacco pare certa la partenza di Alberto Cerri, fari puntati quindi sui giocatori promettenti. Prima scelta è il centravanti serbo di proprietà del Vicenza, Filippo Rajcevic, ma piace moltissimo anche il giovane Kevin Lasagna che ha vestito in quest'ultima stagione la maglia del Carpi.